Buongiorno ragazzi, rieccoci qua per un'altra challenge, oggi è un challenge più sul quanto riguarda la resistenza aerobica ed è l'esercizio dei jumping jack, alcuni di voi già l'avevano conosciuto perché l'avevano fatto a scuola con me e con i miei colleghi, semplicemente dalla stazione retta, quando le gambe sono divaricate gli arti superiori devono essere verso l'alto, di solito c'è anche un battito di mani, quando scendo le gambe sono chiuse e le braccia devono essere ai due fianchi, quindi conseguentivamente dovrebbe essere questo progetto esercizio. Poi naturalmente farete l'esercizio e imposterete un tempo, che è un minuto, e verranno calcolati quanti jumping jack vengono effettuati in un minuto. Una volta effettuato questo video, come per gli altri precedenti, dovrete caricare nella cartella di driver il video e naturalmente ci sarà poi una selezione di tutti i video che poi manderete. Una cosa fondamentale che voglio dirvi è, mi raccomando, ridiamo e giochiamo assieme su questi punti di vista e su questi challenge, perché è di fondamentale importanza sia per mantenersi in forma, siccome con le nuove direzioni, gli spostamenti anche qui fuori di casa sono sempre più limitati. E mi raccomando, cerchiamo di essere numerosi in questa attività, soprattutto che facciamo da casa, e una cosa fondamentale, di fondamentalissima importanza, anzi, è continuate a sfidare voi stessi e i vostri compagni. Ciao!